Al quale fu appeso in Cristo, Salvatore del mondo, venite adoriamo. Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso in Cristo, Salvatore del mondo. Venite adoriamo. Ecco il legno della Croce, a cui fu appeso in Cristo, Salvatore del mondo. Venite, amore, amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.